E apriamo la nostra pagina dedicata al teatro con uno spettacolo davvero imperdibile. Sto parlando di uno spettacolo che andrà in scena al teatro Trianon Viviani di Napoli dall'8 al 10 novembre dove ci sarà un trio veramente d'eccezione. Isa Danieli, Patrizio Trampetti, Gennaro Mano con un falso incidente. Ne parleremo questa mattina proprio con i nostri ospiti e quindi saluto Gennaro Romano. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno, e Patrizio Trampetti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ecco, iniziamo proprio da Trampetti. Con questo spettacolo ci farete compagnia al Trianon per una tre giorni veramente unica in musica, musica parole e grandi artisti. Come nasce questo progetto? Nasce il titolo, nasce da una frase di una canzone che io ho scritto con Edoardo Bennato molti anni fa, la canzone Un giorno credi, è un falso incidente, è una delle frasi conclusive della canzone e io nello spettacolo svelerò qual è il falso incidente della mia vita artistica. Quindi nasce da questo presupposto, da questa intuizione particolare. Quindi un falso incidente che è anche poi una storia piccola, personale, diciamo, che si allarga fino poi a sfiorare un racconto di un'intera generazione. Cosa volete che arrivi al pubblico? Vabbè, si parla forse di un percorso generazionale in cui poi sono cambiate molte cose, tra cui il valore degli ideali. Infatti nello spettacolo ci sono riferimenti con canzoni anche dell'ultimo disco di Patrizio, appunto si intitola l'ideale. Ed è una mistura tra monologhi teatro, forma canzone, quindi musica che si fonde col teatro. E tutto insieme. Tra l'altro, come dicevo, in apertura voi non sarete soli in scena, ci sarà anche Isa Danieli per un trio veramente d'eccezione. Che cosa significa per voi condividere il palco con una grande attrice come Isa Danieli? Beh, Isa Danieli io l'ho conosciuta proprio 50 anni fa, posso dirlo. Ero ragazzino, lei recitava nella compagnia di Edoardo De Filippo e con me ha fatto La Gatta Cenerentola, che è stato uno spettacolo epocale del Novecento, diciamo. Quindi c'ho un rapporto antico con lei, ci siamo ritrovati dopo tanti anni. Quindi ho fatto questo disco, appunto l'ideale, dove canto anche una canzone con lei, che sarà in questo spettacolo. Quindi ci siamo ritrovati a dialogare tanti anni dopo con grande amicizia che non si è mai interrotta. E in questo lavoro gli strumenti accordi della tradizione un po' etnica si fondano a quelli che sono i racconti, anche le canzoni, con delle sonorità circhedeliche che ricordano poi quelli che sono gli anni 70. Come si combina questa musica con la storia? In realtà il filo conduttore sono proprio le canzoni, quindi molto spesso se si attinge al background di Patrizio, che vede anche molte cose che ha fatto con la nuova compagnia, poi ci sono i momenti più contemporanei, nel senso che c'è l'uso degli strumenti elettrici oppure alcuni strumenti di tradizione modificati e resi più attuali. C'è una band che suona con noi, composta da Francesco del Prete, Giovanni Sorvillo, c'è ancora Filippo Piccirillo a Medeoronga. I testi dello spettacolo, che recita anche Isa, sono scritti da me, da Patrizio, in collaborazione con Fabio Pisano. Poi ci sono dei testi, Isa legge un monologo di Napoli Milionaria, di Edoardo, un monologo di Enri De Luca, insomma è uno spettacolo composito da varie cose, di cose che si portano di meno in questo momento, ma che sono l'ideale, secondo me, dell'arte come la facevamo noi e come si potrebbe fare ancora, perché va direttamente a emozionare le persone, al cuore della gente. Assolutamente sì. Io voglio ritornare a Gennaro, voce chitarra dei Letti Spatti, compositore, autore e oggi grande interprete a teatro. In che fase della tua vita artistica sei? Quella della contaminazione con altri artisti e altre forme artistiche, anche perché comunque quando cominci a fare un percorso che ti vede più da solista che magari in un gruppo, ti prendi la possibilità di collaborare con altri artisti, e quindi per me è un enorme piacere collaborare con Patrizio e con Isa, che sono comunque dei grossi riferimenti per tutti quelli che fanno musica e teatro. Patrizio, invece tu che momento stai vivendo artisticamente? Un momento molto creativo. Abbiamo fatto questo disco con grande voglia di farlo, parlando di cose che mi hanno interessato per tutta la vita. Quindi ho collaborato con Claudia Gerini, Gienti Limani, con Isa, con Pietramonte Corvino, quindi è un momento molto creativo. Niente. E quello che vi posso permettere, insomma, vedo in voi anche tanta consapevolezza che viene poi effettivamente dalle vostre esperienze decennali, chiaramente nel campo dell'arte a 360 gradi. Io nel salutarvi voglio invitare i nostri telespettatori a venirvi a trovare a teatro e quindi ricordiamo insieme l'appuntamento dall'8 al 10 novembre con un trio d'eccezione Isa Danieli, Patrizio Trampetti e Gennaro Romano. Tra l'altro loro sono qui con noi. Grazie Patrizio, grazie Gennaro con un falso incidente. E noi ci vediamo domani mattina, sempre alla stessa ora, qui a Mattina Live su Canale 8, 11 e 30. Vi aspettiamo. Grazie a tutti.